Asilem e la tecnica della scuola hanno voluto organizzare questo corso poiché il sonno è un elemento indispensabile per la nostra salute e per il nostro benessere, così come mangiare e bere. Ciò è particolarmente vero nei bambini e negli adolescenti poiché il sonno svolge un ruolo fondamentale durante lo sviluppo sia fisico che mentale, inoltre una carezza di sonno causa deficit di attenzione, di concentrazione, di memoria che si ripercuotono negativamente anche sul rendimento scolastico. Il nostro corso rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado vuole non solo dare la possibilità di riconoscere situazioni di criticità riconducibili ad un deficit di sonno, ma anche fornire gli strumenti di intervento per favorire stili di vita che permettano né i bambini né gli adolescenti il rispetto del loro fabbisogno di sonno.